Buongiorno a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui, due ori per l'Italia e la serata deve proseguire, bene bene alle Olimpiadi, ma parliamo di Milan, di Mercato Milan, intanto così risolettevo che mi piacerebbe molto vedere Reinders in questo nuovo gioco del Milan targato Fonseca, mi incuriosisce parecchio dopo un ottimo europeo vederlo in questi nuovi schemi di Fonseca, Vedremo un po' se confermerà le aspettative, almeno personali, però c'è un indizio social su Fofana, il Milan è pronto a presentare un'altra offerta da 20 milioni più percentuale su futura rivendita e Diabili ha scritto su un commento sui social, vieni al Milan e Fofana ha risposto se me lo chiedi tu fratello con i sorrisi, sì è una curiosità, non vuol dire nulla per carità, però ecco un'indicazione in più sul fatto che si prosegue, Sappiamo che questa trattativa deve decollare e per forza di cose Milan deve accelerare anche perché il 3 agosto i francesi possono essere a Milanello, quindi dopo domani ci saranno i francesi a Milanello ad allenarsi, lui potrebbe essere, tra l'altro lui ha già interrotto le vacanze perché oggi ha fatto il primo giorno con il Monaco, speriamo si acceleri e si trovi la soluzione, magari a 20 milioni più percentuale futura rivendita, mentre si è un po' bloccata la vicenda Scuffè perché viene considerato eccessivo il prezzo fatto dal Cagliari per il Portiere che dovrebbe sostituire Sportiello che sarà fuori tre mesi circa, attenzione a consigli che si è proposto ma in questo momento il Milan vive una situazione un po' più di stand by e cerca di capire se ci sono delle altre opportunità, per Scuffè richiesta ritenuta non congrua e consigli che si è proposto potrebbe essere una soluzione, ma non è discludersi che si possano trovare anche altre situazioni, soluzioni, oppure magari liberali che ha fatto molto bene anche la notte che viene promosso all'occorrenza. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi e forza Italia, altre medaglie, speriamo di raggiungerle magari in serata, nel frattempo due ori, un abbraccione, ci vediamo più tardi o domani, ciao!